Dal derby a Milan-Roma volevo sapere come ha visto la squadra questa settimana sia dal punto di vista fisico che mentale. Allora a me sembra ci sia stata la reazione giusta perché perché poi la squadra è dispiaciuta c'è tanta amarezza io poi me la sento tutta addosso questa amarezza ma è chiaro che poi quello che conta diciamo l'espressione massima del nostro lavoro debbono sapere che viene fatta in fondo al campionato per cui come è sempre successo ci sono delle partite che si perdono e quello che poi avviene nella partita successiva quella persa diventa fondamentale poi per chiudere quello che è il discorso di come ti sei comportato di come ti sei impegnato che professionalità hai che qualità hai. C'è quell'esame lì quello della classifica a fine campionato e questo diventa una partita fondamentale anche perché c'è in ballo una posizione importantissima. Per cui ci voleva reazione e la reazione secondo me c'è stata e andiamo a giocare questa partita difficile perché sarà una partita difficile. Giannini Roma Dv. Buongiorno mister sono qua. All'andata incontrasse il Milan forse nel loro momento migliore. Adesso sembra una squadra più in difficoltà si aspetta una partita con insidi differenti e con uno svolgimento tattico anche diverso? È un po' è un po' quello che abbiamo detto cioè è quello che diventa poi l'espressione della tua qualità si vede nel lungo tragitto. Io penso che il Milan si abbia perso un po' di smalto da quello che è successo poi nella partita di andata perché nella partita di andata ci mise veramente in difficoltà soprattutto nel primo tempo con questo palleggio con questi esterni che entravano dentro il campo. Secondo me hanno mantenuto molte qualità perché in questo periodo dove i risultati non gli danno ragione alla squadra di Montella però ci sono molti episodi dove non sono stati premiati per il valore che avevano quegli episodi e non deve fare poi testo sotto l'aspetto di che squadra andremo a trovare perché io sono convinto troveremo una squadra stimolatissima con un allenatore che prepara benissimo le partite e per cui quello che io dirò ai miei calciatori nell'aspettarsi poi l'avversario che sarà quello della partita d'andata perché hanno messo dentro qualche innesto anche se giovane inesperto però di assoluta qualità e di assoluto futuro che da un momento a un altro in un luogo o nell'altro poi esprimeranno tutto il loro valore. Mangiante Sky Sport Eccoci, una curiosità su Monci perché proprio qui in sala stampa tre giorni fa ci ha svelato un segreto, ha detto io sono venuto a Roma anche per Luciano Spalletti e mi piacerebbe lavorare con lui e farò di tutto per convincerlo a restare. Allora voglio sapere anche se insomma Monci non è Charlie Steron se questo corteggiamento è già iniziato. Allora, qui la Roma fa vedere, il presidente Pallotta fa vedere poi che intenzioni abbia perché è andata a prendere il migliore. Monci è il migliore che c'è ora sulla piazza e lui se l'è portata a casa. Poi quello che volevano tutti, poi è chiaro che c'è qualche società che tiene quello che aveva perché hanno fatto bene come risultati nel suo campionato, ma Monci è quello che è voluto un po' da tutti, guardato un po' da tutti. Lo raccontano quelli che hanno a che fare con lui, che hanno lavorato con lui, che ci si confrontano nel fare il mercato a livello europeo. quello che lui ha detto di noi soprattutto a me fa piacere, perché è una visione che viene pulita, che viene da fuori, dove uno non è inquinato da quello che poi si dice sul luogo, la guarda con la sua assoluta professionalità, assoluta chiarezza di farsi un'idea su di un ambiente, e arriva qui e ti dice, ma mi sembra che tutto sommato la Roma stia facendo un buon lavoro in generale. Poi è chiaro che ci sono delle cose che si tenta di migliorare, c'è un lavoro da fare, però lui ha espresso un parere molto positivo a quello che era il suo guardarci da fuori, cioè dall'estero hanno quella visione che lui ha raccontato a noi e a noi ha fatto molto piacere. A me altrettanto potermi confrontare con il numero uno dei direttori mi ha già dato delle qualità e delle cose che io tengo strette. Zucchelli, Piazzetta dello Sport. Buongiorno, io volevo chiederle un commento su quello che è accaduto al Colosseo due notti fa, lo striscione e i manichini appesi dai tifosi della Lazio. Grazie. Allora, l'episodio dei manichini secondo me non appartiene né ai tifosi della Roma, né ai tifosi della Lazio, né ai tifosi in generale che amano questo sport, ma fa parte di persone deviate, di persone che hanno dei problemi. Tifare è sostenere, amare, gioire, criticare, dispiacersi. Iniziative come quelle a me mi evidenziano soltanto odio, cattiveria, livore gratuito, come quello che ho ricevuto nell'articolo, ho evidenziato, nell'articolo di Vocalelli, quando poi tira in ballo i miei figli dentro un suo articolo per attaccare me. Io ho domandato, ho chiesto la domanda che Vocalelli mi aveva proposto di fargli e i miei figli mi hanno detto che ha ragione lui, che ci sono delle partite che dovevamo sviluppare meglio e che erano criticabili, per cui gli hanno dato ragione, ma preferirebbero anche non apparire, non comparire e non essere tirati in ballo nei suoi articoli delle analisi della Roma e delle sconfitte della Roma. Loro sono degli studenti che vanno a scuola e che andrebbero lasciati vivere senza nessun commento da una firma importante come lui. Dubaldo, Corriere dello Sport. Sì, avevi detto che il secondo posto era un obiettivo importante in questa settimana, ma la Roma per essere sicura di ottenerlo dovrebbe vincerle tutte, perché se perdesse anche soltanto due punti per strada con un pareggio potrebbe essere scavaccato dal Napoli. Ma se la Roma finisse il terzo posto sarebbe un fallimento per la tua gestione? Un fallimento secondo me mi sembra utopia, o fa parte poi di quel modo di voler far apparire le cose, perché proviamo a chiederlo a 7-8 squadre se finire terzi o ad altre squadre che hanno iniziato, con lo stesso obiettivo, se finire terzi sarebbe poi un fallimento. Io dico che il secondo posto è difficile come lo è sempre stato, anche perché crea l'accesso diretto alla Champions League dietro la Juventus, che per quello che ha fatto vedere non era possibile metterci mano. La Juventus in questo campionato ha detto nessuno può mettere mano al primo posto, è nostro, e se lo sono portati a casa. Poi ci rimane quell'altro obiettivo che fa vedere come tu lavori nell'arco di un campionato, è lungo il tragitto, eh? Sono tanti mesi, sono tante partite, sono tanti momenti dove c'è da confrontarsi poi con la squadra, da dire le cose giuste, da prendere delle decisioni giuste, perché se no si rischia che nel girone d'andata fai vedere di giocare una partita importantissima, poi nel girone di ritorno la squadra non è più in quel livello di classifica lì. Noi quest'accesso diretto, che vorrebbe dire per le contendenti alla Juventus il suo scudetto, ce lo giochiamo con il Napoli, che è la detta di tutti, è una delle squadre più forti d'Europa. E sono loro i detentori di questa posizione. Cioè tu che sei a insidiargliela, hai lavorato bene perché sono loro che sono arrivati i secondi. Anzi, te l'amplio un po', l'analisi. Noi quando siamo partiti ad allenare la Roma, io e te, alleni anche te, secondo che scrivi dando forza o buttando di sotto un altro, alleni anche te perché poi è così, in generale è così, si vede, ora c'è... Eh? Sì, ma infatti, ma l'alleni anche te, in una percentuale minore, anche perché la percentuale maggiore la voglio io, a te la lascio minore, però l'alleni anche te. E quando siamo partiti, noi eravamo a cinque punti dall'Inter. Quando abbiamo iniziato eravamo a cinque punti dall'Inter, una decina dal Napoli. eravamo a cinque punti dalla Fiorentina. Per cui quando si fanno confronti poi riesce anche a me. Vediamo come si finisce e poi te lo dico dove si è peggiorato e dove si è migliorato, dove si è fallito e dove non si è fallito. Ci sono delle partite che dovevamo fare meglio. Però poi non è che siamo usciti in Europa League da una squadra scarsa o abbiamo fallito completamente. Ci sono state delle partite che sono determinanti dove non abbiamo espresso tutta la nostra qualità e non abbiamo caricato bene quello che è il valore dei nostri calciatori, uno sopra l'altro. Non siamo stati così squadra evidenziando nella totalità il nostro meglio. Però quando siamo partiti, siamo partiti da lì. Ora siamo tanti punti avanti all'Inter. L'obiettivo lo crei tu dicendo qual è il tuo obiettivo? Il tuo obiettivo è quello sempre di vincere il campionato perché così tutto quello che ci sta sotto poi... Ma tu devi vedere dove parti, c'è sempre un lavoro. Poi io ho sempre detto che bisogna vincere. Ho confermato che bisogna vincere. L'ho detto dietro a tua richiesta, richiesta dei calciatori, la richiesta di tutti, si può andare a rivedere tutti. Sì, è vero. Bisogna vincere. Sì, è vero. Bisogna vincere. Bisogna vincere. Bisogna vincere. Poi nel lavoro ci sono momenti dove la squadra, come è successo, ti portano via un giocatore, tu lo devi andare a rimpiazzare. Ci sono tutte queste cose che fanno parte. E io dico in generale la squadra si è comportata molto bene. La squadra ha lavorato e ha lavorato nella maniera giusta. La squadra è una squadra forte che ha perso delle partite, che non è in alto mare come si pensa in questo momento qui in generale, ma è una squadra che deve reagire, una squadra che deve far vedere la personalità che ha, la forza mentale che ha di venire fuori da una sconfitta dove non ha dato tutto e deve rendersi conto che non ha dato tutto e avere una reazione più forte del dovuto che dovrebbe avere perché ha concesso qualcosa di qua e ora quello che ha concesso lo deve trasferire in questa partita. Poi arrivare secondi, come ho detto prima, che è l'obiettivo e che volebbe dire aver raggiunto il massimo degli obiettivi. Bisogna andarla a dire a quegli altri che sono vicini a noi, in questo caso qui si chiamano Napoli, che tu hai scritto una delle squadre migliori d'Europa. Tu, giornalista in generale. Ora, mi volete anche smentire che in Napoli, se no ve lo dico io, avete scritto bene in questo caso qui, Napoli è una delle migliori squadre d'Europa, che gioca uno dei migliori calci d'Europa e quello che è sempre il calcio del Napoli è un calcio fatto di pressing, di qualità di gioco, di corsa, di giocate, di tutto, c'è tutto. Napoli è la squadra che tutti vorrebbero avere in questo momento qui. Anche all'estero, guardate anche all'estero, e noi stiamo a giocarsela con loro. Per cui è segno che tanto male non abbiamo fatto. Poi dire fallimento del terzo posto. Io spero, no, sei un bell'uccello del malaugurio. Sì, sì, no, dicendo che tanto poi se tu arrivi terzo, tu hai fallito, si può dire al contrario, insomma. Però, da un punto di vista mio, non ci fa timore, da un punto di vista mio, e mi porto dietro quello che è l'impressione che ho dei calciatori, non ci fa timore andare poi a giocarsi la partita contro il Milan e contro la Juventus, che sono quelle che faranno la differenza. Perché fino a questo punto qui ci siamo arrivati con le nostre forze, anzi, avendo fatto male domenica, loro hanno dato un bello scossone a quella che è la classifica, perché ci hanno recuperato questi tre punti, che sono tanta roba da dover gestire, da dover digerire. Però, si va a giocarla e si fa vedere quello che è il nostro valore. Stai tranquillo, me lo puoi richiedere domani dopo la partita. E se si arriva a secondi è come aver vinto il campionato, se si arriva a terzi si è fatto un lavoro che è stato lungo, che è stato importante, perché la media dei punti fatti, gol fatti, gol subiti, ci sono tanti numeri che poi ci sono la partita, come mi avete ricordato anche negli ultimi articoli, la partita contro il Porto, la partita contro il Lione, la partita contro la Lazio, il derby di campionato, il derby di Coppa. Poi mi sembra che tutte quell'altre non le sto a citare perché ci vorrebbe tanto, se no sono molte di più e sono quelle vinte che si è portata a casa. Ecco, per cui si continua a lavorare in quella che è una ricerca di dare poi alla Roma, ai tifosi della Roma, una visibilità internazionale più importante possibile, ma terzo posto vuol dire essere lì dentro le posizioni nobili, non fallimento. Lorusso, RDS. Buon pomeriggio, Spalletti. Senta, tornando un attimo alla conferenza stampa di Mosci, sono stati toccati tanti temi importanti e delicati, tra cui anche quello di Francesco Totti. Allora, non sto qua a chiederle per l'ennesima volta se lei sa o non sa se Francesco resterà, continuerà, non si sa. Vorrei da lei un parere quasi da esterno, come se fosse una persona non coinvolta, se è giusto che una società in qualche modo pubblicamente decreti la fine della carriera di un giocatore o se dovrebbe essere magari lui a farlo, qual è il suo parere in questo senso? Un commento. Guardi, per me essere uno che lo valuta dall'esterno diventa difficile perché ci sono dentro fino al collo per cui ora tirarmi fuori tutto e andare all'esterno sono qui dentro è difficilissimo. Dico che aspettiamo a dare degli aggettivi a Monchi perché per quello che mi è sembrato lui parlando di questo tema abbia soltanto riportato ciò che ha trovato perché lui dicendo che Francesco l'anno scorso ha fatto un contratto l'ha fatto Francesco o l'ha fatto il suo agente qualche uno l'ha fatto per cui lui ha in mano questo e riporta questo discorso qui c'è un confronto prima dell'inizio del campionato che ho detto di male e se scoti la testa ma lui probabilmente che fa essendo nel momento più importante della sua carriera essendo così attaccato alla Roma vuole aspettare la fine del campionato e preferisce fare silenzio per dare tutta l'attenzione a questo finale di campionato penso io non lo so però e qui si tratta anche sempre di riportare le cose dette con coerenza io ho sempre detto quando sono arrivato che quella che è la gestione del calciatore io c'entro dentro lo devo gestire perché non si gestisce un calciatore io so che mi sembra di aver capito che a voi stiano a cuore le sue sorti più quelle di altri ma per fare i risultati della Roma ci sono le sorti di 20 calciatori da dover tenere presente purtroppo quello che è un raccontare Totti nella sua carriera si finisce sempre per essere un articolo dove si osanna quello che è il suo recorso i suoi numeri via dicendo per essere quello che fa la formazione non si va a vedere il go che ha fatto due anni fa o la corsa che ha fatto due anni fa ma si vede gli allenamenti di ora confrontandoli con quelli di un altro di un altro calciatore che vuol giocare uguale che vuol giocare uguale ad esempio nell'episodio di Dzeko dice ma lui lotta tutti hanno riportato lui lotta per la classifica dei capocannonieri sì ma Perotti e Saravi e Salah devono fare il decimo gol che a loro gli vogliono dire la classifica personale per andare poi a far parte di un'altra squadra forte dice ma la classifica dei cannonieri lui ha una prevalenza ma dove sta scritto è un'opinione vostra per cui è una valutazione sbagliata distolta da uno che non sa quello che è il lavoro poi diretto io dico come ho sempre detto che la gestione del campione della storia di Totti la deve gestire il presidente secondo me il presidente che è con lui ma mi sembra che il presidente pensi di averla già fatta pensi poi se lui volesse se lui volesse esce fuori e dice e mette a posto tutto ma se non c'è qualcuno che parla del suo entourage come sento riportare qualche volta dal suo entourage dicono che l'ho letto tantissime volte in questo caso qui dal suo entourage dicono non dicono allora se non dico è il segno che si arriva a fondare il campionato perché lui è interessato e poi dirà quello che è il suo pensiero sarebbe più facile se lui lo dicesse prima possibile o perlomeno andasse a richiedere le cose che giustamente debbono essere valutate da parte della società ma Mocci non ha detto niente Mocci ha soltanto preso pari pari quello che ha trovato e l'ha riportato e vi ha detto quella che era la sua gestione è già apparecchiato mangia la roba che è sul tavolo arriva ora Parisi centro poi per quanto riguarda la maglia centro da solo centro da solo ragazzi siamo 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 a fare delle valutazioni che non stanno né c'era né terra la maglia se se io fossi uno che gestisce la società rimane in vigore rimane viva la maglia non muore perché secondo me togliere la maglia è mortificazione non è esaltazione è proprio l'opposto cioè prima di Totti l'aveva Giannini e poi è venuto Totti e che mi sembra l'abbia già ho capito cioè è un modo di ragionare obsoleto è un modo di ragionare vecchio anzi ribaltiamola la cosa si vuole ricordare Totti bene si scrive in tutte le maglie numero 10 piccolino con la scritta sotto Totti che uno se lo può infilare anche dentro che rimane qui da una parte ma il numero 10 su tutte le maglie secondo me è così poi ognuno perché l'hanno fatto negli anni precedenti che si fa si leva la maglia ci si accoda hanno fatto loro si fa anche noi si rotola ci si ruzzola dietro quello che hanno fatto gli altri e si arriva in fondo poi è il campo e ci si rizza che beruzzoloni che ho fatto si toglie la maglia ma che discorsi sono è quello che ambisce a giocare con la maglia di Totti cioè il bambino che la vol se la merita se l'è sudata e se la può mettere quale traguardo sarebbe per un bambino glielo vogliamo togliere questa soddisfazione mettiamola in tutte le maglie teniamola viva perché deve essere deve continuare a vivere quel numero 10 col quale Totti ha fatto queste grandi questi grandi giocate questo me lo sono concesso da me solo perché è insopportabile ancora a questi tempi qui sentire gente sostenere che va tolta la maglia io dico il mio pensiero per me poi può darsi anche che la tolgano perché lo sento fare da più parti questo è il mio pensiero io dico il mio pensiero poi può succedere di tutto se non la vedo più poi andrò al cimitero e cerco la maglia di Totti per rivederla Parisi buongiorno mister senta la Roma è andata particolarmente in difficoltà con Lazio e Napoli visto il tridente con quegli attaccanti molto veloci domani probabilmente troverà di fronte tre attaccanti con le stesse caratteristiche che sono Deulofeu Bacca e Suso le chiedo anche alla luce delle squalifiche di Strottman e Rüdiger come pensa di cambiare il volto tattico della squadra e se ritornare a una difesa quattro pura con Bruno Perez Emerson Palmieri ai lati può in qualche modo aiutare in questo senso sì è una visione corretta di quello che può essere la tattica di squadra da adottare nelle ultime partite abbiamo giocato con la difesa a quattro e non è un ritorno è una continuazione perché ormai sono già tre o quattro partite e rigiochiamo con la difesa a quattro ci sono meno scalature da fare perché loro proponendo i tre attaccanti ti si vanno a incastrare in quello che è la logica della difesa a quattro loro sono molto bravi a spingere con i tersini a portare poi in zona tre quarti ad abbassare con i centrocampisti spingono con i tersini abbassano i centrocampisti sui centrali difensivi entrano in zona tre quarti con le due punte esterne più con Suso meno con De Lufeo però poi quello che tu hai detto è corretto e noi si vuole fare delle prese di posizione delle scelte corrette per cui è una cosa possibile Pagnano Petisport buongiorno mister un attimo tornare alle parole che lei ha detto dopo Roma a Torino ovvero che se Totti non rinnovava lei sarebbe andato via le chiedo un chiarimento a riguardo e se questa era una strategia di comunicazione chiarimento per quanto mi riguarda se ne parla in fondo al campionato cioè di quello che sarà la mia posizione insomma ma ma anche qui gli si è creato spazio in eccesso per lo meno gli si è voluto dare un taglio che va al di là del dell'esito perché c'è il 60% degli allenatori che allenano in Italia che ancora non si sa se rimangono 60% ci sono 12 14 allenatori che non sanno se vuoi te li cito tutti invece qui è successa la fine del mondo sul tentativo come hai detto tu perché poi essendo l'allenatore devi andare a parlare devi caricare a volte qualcosa io spesso le ho sbagliate queste cariche per come poi me la sono ritrovata appena il tentativo era quello lì capito e sul mettere i puntini su lei sul chiarire poi bisogna arrivare in fondo al campionato perché questo questo pezzettino di campionato può voler dire moltissimo ecco veramente come si è detto ultimamente tanta roba per quello che è la posizione che dobbiamo raggiungere e ci sono delle partite difficili c'è subito il Milan in Pola Juventus subito il Milan con Montella che che è un allenatore di rango un allenatore che ha fatto bene da tutte le parti apprezzato da tutti i giocatori con i quali lui ha lavorato sarà una partita difficilissima di una squadra giovane forte da un punto di vista di gamba preparata benissimo perché il suo allenatore si chiama Vincenzo Montella facciamo l'ultima Ziantoni delle radio buonasera io volevo informazioni vorrei insomma non volevo vorrei informazioni su Gerson e Grenier le spiego Grenier è arrivato a gennaio e l'abbiamo visto pochissimo Gerson non lo vediamo praticamente dal dicembre scorso della gara contro la Juventus era in procinto di passare a Lille è possibile che i pochi giocatori a centrocampo che si sono alternati hanno portato la Roma a perdere e a mancare gli obiettivi che si era prefissata e Gerson non lo vediamo più in campo perché è una punizione per non aver accettato il trasferimento a Lille quindi una scelta societaria non sua no prima di tutto nella società c'è grande sintonia per cui io non passo avanti a loro loro non passano avanti a me e questa è un po' di più una mia gestione perché poi dentro lo sfogliatoio non sono tanto comodo a sentirmi dire questo tu lo lasci fuori e si fa come ci pare il discorso è che quando poi un giocatore non lo utilizzi per molto tempo lo tieni in considerazione poi le partite vanno a diminuire vai fuori da delle competizioni che non ti obbliga a dover fare dei turni così ravvicinati allora i giocatori poi cominciano a essere quei 16 15 16 e sono quelli lì poi ti manca uno è chiaro che lo devi sostituire come in questo caso Kevin Strottman se ci fosse stato vai avanti con Strottman insomma ecco allora qualcuno viene penalizzato da quella che è la gestione dell'allenatore io ho penalizzato Gerson probabilmente ho fatto giocare proprio anche Gregnier perché ha fatto vedere quando c'è stato di essere di quel livello lì però poi nel far giocare De Rossi non ho fatto giocare un giocatore che ha sbagliato totalmente la partita nel far giocare Nainggolan e Strottman non ho fatto giocare i giocatori che ci hanno fatto perdere una partita e che avendoli sostituiti avrei fatto la scelta giusta ecco si tratta di passaggi poi nella lunghezza del campionato che di cui bisogna assumersi le responsabilità insomma e la responsabilità su quelle che possono essere le obiezioni è una responsabilità mia dove posso probabilmente anche aver fatto male giustamente grazie a tutti grazie